Non è un problema, ti telefonerò, ti ritornerò una serata strana Si prende il testo lo sai, quattro dischi e un po' di whisky Sarò grande e vedrai, fatti spazio e dopo mi dirai Oh, che maschio sei, lui chi è? Come mai l'hai portato con te Il suo ruolo mi spieghi qual è, io volevo incontrarti da solo Sei male, mentre lui, lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? È già difficile farlo con te Morao! Lui chi è? Lui cos'è? Lui cos'è? Lui perché? È distratto e non è certo di troppo Morao! Mi aspettavo lo sai, un accordo un po' più normale Quale eventualità, trovarmi una collocazione Ora spiegami dai, l'atteggiamento che dovrò tornare Mentre io rischierei, ma il triangolo più lo rifarei Perché no! Lo rifarei! Lui chi è? Lui chi è? Ma loro chi sono i doppio zero? Sicuri? Massimo Bucci al basso! Marco Benito alla chitaria Vuoi lanciare? Lui chi è? Lui chi è? Alessandro De Brambola, pianona, pianoforte e pianifica Lui chi è? 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 È distratto e mencendo di troppo Wow! Lui chi è? 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 Lui chi è?